salve e bentornati oggi vi voglio far vedere un altro software che può essere piuttosto utile per le lavorazioni per averlo è sufficiente andare su carbide 3d e cliccare qui praticamente bisogna inviare una mail alla quale poi ci verrà inviato il link per scaricarlo una volta scaricato basterà installarlo e andiamo a vedere che ci consente di fare il software allora quando si apre questa è la schermata iniziale l'utilità di questo software è che ci consente di lavorare sia di creare noi dei disegni ma in particolare di importare sia di xf che svg allora nel pannello impostazioni praticamente gli andiamo a dare i vari settaggi anche qui per prima cosa impostiamo i millimetri e andiamo a vedere i vari parametri per prima cosa la dimensione dell'area di lavoro quindi praticamente il nostro pezzo da lavorare lo stock size io adesso non lo imposto perché lo imposterò dopo che avrò importato il pezzo poi come al solito abbiamo lo stock thickness cioè lo spessore del pezzo questo posso metterlo supponiamo che sia 10 e che lo zero macchina lo vado a fare sopra il pezzo sul top quindi stesso discorso per le origini della macchina in basso a sinistra l'over left e ci chiede anche qual è il tipo di materiale che andremo a lavorare ora supponiamo che io gli dica softwood dopodiché la clearance cioè l'attezza in sicurezza gli diamo 5 e diamo ok ora vado ad aprire il file da lavorare allora un secondo ed eccolo qua quindi me lo seleziono clicco su sposta e lo vado a posizionare come vedete l'area non va bene quindi la prendo e la cambio diciamo che gli do 330 ok ancora non ci siamo perfettamente quindi lo sposto ancora non ci siamo con la larghezza ok a questo punto dovremmo esserci perfetto quindi abbiamo il nostro pezzo da lavorare e siamo pronti a questo punto possiamo andare direttamente in tolpazza allora supponiamo che io voglio iniziare con lo svuotamento di questo cerchio vedete che in tolpaz lui ci da diciamo più o meno come jscat però con una qui una funzione in più che è la texture poi dopo la vedremo in questo caso dato che devo forare io vado a selezionare il contorno dopodiché vado a dirgli qual è la tipologia di fresa che voglio andare ad utilizzare qui praticamente l'unico inconveniente che ho riscontrato è che le misure allora innanzitutto le frese vedete sono già relazionate alla tipologia di materiale quindi vado su una end mill e mi vado a prendere la fresa l'unico inconveniente che ho riscontrato è che in pratica le frese che lui ha me le dà non con le unità in millimetri come ho selezionato all'inizio ma in inch lì c'era la scheda della della fresa però diciamo poco male nel senso che facendo la conversione poi ottengo quello che voglio quindi qui ho lo step over per la passata poi la passata in profondità supponiamo di volerla cambiare a 2 poi abbiamo la velocità del mandrino la velocità di avanzamento supponiamo che io questa la voglio cambiare a 800 e la velocità di affondo della fresa e supponiamo che voglio cambiarla a 400 do l'ok poi gli vado a dire l'inizio della passata start depth e gli dico di utilizzare lo stock perché? perché voglio andare a forare tutto il pezzo e come max step sempre l'altezza dello stock che ho dato all'inizio e quindi lui mi forerà tutto quanto dopodiché prendo e gli vado a dire di fare un pocket ok? vedete lui ha già creato l'operazione gli do l'ok dopodiché in show simulation io ho la possibilità di andare a vedere direttamente in una maniera anche abbastanza chiara quello che lui andrà a fare vedete? ecco in rosso la passata in sicurezza e poi lo scavo del pezzo a questo punto posso tornare in toolpath volevo vedere in impostazioni no ok ok allora torno in toolpath dopodiché seleziono questa riga qui allora in questo caso io voglio fargli fare una semplicissima incisione quindi vado in vcarve e gli vado a innanzitutto di nuovo mi vado a selezionare la fresa supponiamo ovviamente che questa sia la fresa no scusate mi sono sbagliato allora qui non voglio fare un vcarve ma un contour quindi prendo la fresa ok supponiamo sempre 2 mm e depth pass in questo caso gli do 2 ma in star depth e max depth qui gli vado a dire 2 quindi lui farà una passata dal piano zero fino a scendere massimo di 2 mm gli dico no offset in modo tale che lui passi direttamente sulla linea vedete la linea rossa è rimasta non ha più la scontornatura esterna ed ecco qua che io mi sono realizzato praticamente questa sorta di incisione diciamo che è quella per questo è un tagliere quindi è quella che sarebbe per lo scolo dei liquidi quando vado a tagliare fatto questo torno in tall paths mi seleziono il bordo esterno vado con un contour ora non mi soffermo sulle varie questioni attinenti le velocità e via dicendo questa volta è praticamente per farvi vedere questo software che però è gratuito ed è estremamente utile quindi il feed non lascio invariato gli do l'ok e in questo caso gli vado a dire di effettuare un outside start depth a zero e in profondità use stock option perché ovviamente mi deve fare il taglio globale ora torno in simulazione ed ecco qua vedete io se lo ribalto vedo bene che il foro centrale e il laterale vengono incisi fino in fondo mentre invece il pezzo in alto no dopodiché se clicco qui volendo posso anche dirgli di visualizzare direttamente il legno e devo dire che la visualizzazione della lavorazione non è niente male il software è semplicissimo da utilizzare è anche abbastanza veloce e ripeto ha l'utilità di importare svg e dxf per cui noi possiamo crearci il nostro disegno dove vogliamo magari anche in xcape e poterlo realizzare qua dentro in maniera molto semplice ora vado a salvare il gcode e volevo farvi vedere un ulteriore software che è questo qui allora anche questo è liberamente scaricabile si chiama colibri cnc ah un'altra cosa che volevo farvi notare è questa in pratica lui per ogni lavorazione ci riporta direttamente la durata della lavorazione stessa per cui praticamente io so che con i parametri che ho impostato io ci impiegherò 2 4 11 minuti a realizzare tutta la lavorazione quest'altro software invece che è un software devo dire non l'ho ancora studiato a fondo ma è fatto molto bene ed è specifico per le schede colibri per il controllo della cnc ma ciò non toglie che e quindi è un software di gestione della macchina ma contemporaneamente di visualizzazione del gcode ciò non toglie che io posso utilizzarlo per ora vado ad aprire il gcode che ho appena creato con il carbide un secondo di pazienza eccolo qua vedete allora ha secondo me il vantaggio di avere una visualizzazione e gestione dell'anteprima della lavorazione che non è niente male ripeto questo software ha tutta una serie di funzionalità specifiche molto interessanti non le ho ancora analizzate ve lo facevo vedere semplicemente perché può essere molto utile come visualizzatore di gcode anche perché adesso vi faccio vedere se io compilo premo qui e gli do l'avvio in pratica lui mi parte con la lavorazione ma io mentre lui lavora posso anche scegliere di cambiare la visualizzazione e andare a vedere specificatamente cosa fa quando va a determinare alcuni passaggi ok oltre che mentre mi esegue il gcode mi va avanti con il codice qui sulla destra facendomi vedere l'esecuzione dei singoli comandi vedete qui per esempio sta facendo il pocket ovviamente va molto veloce e si riassesta nella in base alla visualizzazione che noi abbiamo impostato lui con lo schermo la segue e questa cosa devo dire è molto utile ripeto esegue tantissime cose però ve lo mostro innanzitutto perché è gratuito cioè si può utilizzare liberamente ed in più perché ha questa funzionalità che non trovo niente male dopodiché vedete che lui qui ci da il tempo di esecuzione stimato 6 minuti e 48 e il tempo rimanente qui chiaramente non va avanti perché non è collegato alla macchina ora io metto in pausa vedete lui ci dice 6 minuti e 48 di qua invece avevamo 2 4 11 minuti da varie ricerche che ho fatto praticamente dovrebbe essere attendibile questo risultato qui cioè il calcolo della tempistica di esecuzione di questo software dovrebbe essere molto precisa ora in una lavorazione come questa conta poco perché stiamo parlando di variazioni di di alcuni minuti però su lavorazioni molto più grandi quindi la cosa è diversa ho fatto questo software con questo disegno anche per teoricamente sopperire ad una richiesta di un iscritto del canale che non sapeva bene come procedere per fare questo tipo di lavoro questa è una prima parte diciamo semplice con un chiamiamolo taglio bidimensionale più in là vedremo come articolare questo lavoro e farlo diventare un qualcosa di più complicato cercando di utilizzare però sempre software liberi con questo vi saluto e alla prossima che la prossima Grazie a tutti.